Durante la stagione scistica appena conclusa sono stati effettuati 734 servizi di vigilanza e soccorso sulle piste per un numerico complessivo di 1496 militari impiegati, chiaramente facendo riferimento alle forze a disposizione ma sono stati gli uomini complessivamente espressi sui comprensori. Sono state effettuate complessivamente 6 contravvenzioni, sono state elevate alle violazioni alle leggi nazionali e regionali che disciplinano il comportamento che deve essere tenuto sulle piste da sci, tendenzialmente per ostruzione delle piste abbandonando gli sci da parte di alcuni utenti meno attenti in casi in cui hanno impedito il passaggio di mezzi di soccorso. 8 i comprensori di riferimento nei quali i militari appartenenti al comando provinciale dei Carabinieri di Belluno hanno operato Cortina con Cristallo Faloria, Civetta, Val di Zoldo, Arabba, Falcade e Nevegal. 496 sono stati invece i soccorsi svolti in pista per differenti motivazioni. Principalmente per incidenti autoprocurati dall'utente, raramente per scontri tra più sciatori. Sicuramente un elemento che incide è l'errata valutazione della difficoltà della pista da sci che lo sciatore si appresta a percorrere in funzione delle capacità dello sciatore e in alcuni casi, anche se sempre meno frequenti, dei materiali tecnici con cui lo sciatore si appresta per correre la pista.